La piaga della violenza di genere. Inaugurato in provincia di Napoli un nuovo spazio per accogliere testimonianze e denunce delle donne vittime di maltrattamenti. Adriano Albano. Un luogo dove poter parlare senza paura, senza la paura di subire ancora violenza. Per le donne vittime di maltrattamenti c'è ora un nuovo spazio. Dopo Napoli Capodimonte il comando provinciale dei Carabinieri apre una seconda stanza di ascolto all'interno della tenenza di Caivano, un luogo confortevole dove sia più facile raccontare come un amore si sia trasformato in incubo. È molto importante che anche le case dove le forze dell'ordine lavorano possano mettere a proprio agio delle vittime che hanno delle fragilità psicologiche o delle resistenze a relazionarsi con denunce o con atti di questo tipo. Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha sottolineato anche l'importanza per la realizzazione di queste strutture della collaborazione con il mondo del volontariato, in questo caso Sor Optimist Vesuvio. Sono molto fieri di essere, aver portato a compimento questo, questo lavoro veramente con una squadra, una squadra molto forte, molto unita con l'aiuto anche della, chiaramente dell'arma dei Carabinieri. Il generale Giuseppe Lagala, comandante provinciale dei Carabinieri, lancia un appello. Cercare di intercettare immediatamente ogni malessere, ogni segnale, non soltanto delle persone coinvolte ma anche di tutte le persone che sono vicine per cercare di avvicinare le forze di polizia, Carabinieri, polizia, polizia locale per segnalare queste situazioni e consentirci di intervenire immediatamente. La stanza tutta per sé chiaramente è un luogo ideale dove la donna chiudendo quella porta si trova di fronte del personale formato. Le donne da ora hanno un nuovo spazio per chiudere la porta alla violenza di genere.